Covid, i dati di oggi in Abruzzo, si registrano 35 nuovi casi. Il ministro della cultura il 24 giugno sarà accolto dal sindaco di Natale, Franceschini. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Oggi si registrano pochi casi Covid, sono infatti 35 nuovi positivi di coronavirus in Abruzzo nelle ultime ore. Si registrano altri decessi, però due le persone morte. Nei casi positivi 24 si sono registrati in provincia dell'Aquila, 6 in provincia di Teramo, 2 in quella di Chieti e uno soltanto in provincia di Pescara. Sono stati effettuati 2.243 tamponi molecolari e 3.637 test antigenici. Altri 50 pazienti sono guariti, sono 1.256 di attualmente positivi, 21 in meno. Sono 42 i ricoverati in area medica, 10 in meno, 1 in terapia intensiva, 1.212 in isolamento domiciliare, 12 in meno. E alla porta di via Treves, sede del centro di ascolto nato dall'asse tra il comune di Avezzano, l'ASL e l'associazione Veronica Gaia di Orio, in un anno hanno bussato 302 giovani con problemi legati alla depressione, l'alcol, le droghe, disturbi comportamentali. Segno di una vera e propria emergenza sociale. Il comune ASL, consci del disagio crescente, soprattutto tra i giovani, certificato dagli operatori in un incontro a Palazzo di Città, hanno rinnovato la convenzione con l'associazione per il servizio aggiuntivo al pubblico rivolto a giovani e famiglie di Avezzano e Marsica. Nella sala consigliare, oltre al sindaco, al professor Di Orio, erano presenti l'assessore Maria Teresa Colizza, la direttrice del Dipartimento Sanitario dell'ASL Rossella De Santis, i dirigenti del comune Maria Laura Ottavi, Antonio Ferretti, la professoressa Anna Maggi, la dottoressa Lucia Di Lorenzo e la dirigente scolastica Beria Perez. Enti a mondo del volontariato, quindi, continuano a operare gomito a gomito, con l'obiettivo, dichiara il sindaco Giovanni Di Pangrazio, di togliere tanti giovanissimi da una condizione di isolamento e restituire la bellezza dei rapporti veri e umani. Il distacco sociale, la tecnologia, la mancanza di relazioni e altri fattori legati alla pandemia hanno inalzato in modo preoccupante l'esigenza di agire subito e bene a supporto delle persone, in special modo di quella in fase di formazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno sottolineato invece, il professor Ferdinando Di Orio, già rettore dell'Università dell'Aquila, ha annunciato che nel 2030 la depressione sarà la malattia più diffusa. E si è svolto ieri ad Avezzano, presso la comunità montana, montagna marsicana, la presentazione dei nuovi bandi del Gal Marsica pubblicati in questi giorni. I bandi pubblicati ed animati sono Appalto concorso per la realizzazione di un eco-itinerario esperienziale denominato Esperiente Mars in sentiero, bando di gara procedura aperta per efficientamento energetico di strutture pubblico-private in ambito rurale ad uso sociale. Si ricorda che i bandi hanno una scadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione, cioè scadranno tutti il 13 agosto prossimo alle ore 12. Ed in corso di programmazione è anche un evento in videoconferenza per consentire la massima partecipazione, per poter rispondere a questioni, spiegazioni o problematiche varie. Tanto all'incontro di presentazione, coordinato da Augusto Cicchinelli, responsabile dell'animazione, ha presenziato Lucilla Lilli, presidente del Gal Marsica, che ringraziando numerosi presenti ha sottolineato come il Gal Marsica rappresenta sempre di più un motore di sviluppo per il territorio marsicano con iniziative come questi bandi, uniche nel loro genere, e tutto nella direzione di un turismo esperienziale lento e sostenibile. Ed il comune di Adielli e il sindaco Enzo Di Natale sono orgogliosi di annunciare la visita del ministro della cultura Dario Franceschini il prossimo giovedì 24 giugno. Il ministro presenzierà la cerimonia di inaugurazione della nuova opera muraria legata a Dante Alighieri, la divina commedia edizione speciale, realizzata in alluminio seggrafato lungo il muro che costeggia a Porta Montanara, da poco ripavimentata dall'amministrazione. L'evento si colloca nel più ampio scenario celebrativo del 700esimo anniversario della morte del sommo poeta. Lo stesso ministro Franceschini è stato l'artefice dell'istituzione del Dante Day, la giornata nazionale dedicata a Dante, iniziativa condivisa dal Consiglio dei Ministri, degli accademici e dalle istituzioni scolastiche. Qualche settimana fa Franceschini ha fatto pervenire al sindaco di Natale il proprio attestato di stima, non anche la volontà di recarsi lungo le opere murarie del borgo per ammirare la scena suggestiva della Costituzione italiana. Primo cittadino ha allora incalzato provvedendo ad invito ufficiale in occasione del battesimo istituzionale dell'omaggio al poeta toscano. E in occasione dell'inaugurazione della Divina Commedia edizione speciale, Poste Italiane presenterà la nuova cartolina dedicata da Ielli e il timbro appositamente realizzato per celebrarne i murales. Seguirà dunque l'annullo, verrà impresso per la prima volta il timbro con la firma di un direttore di poste. Lo stesso timbro verrà poi consegnato agli uffici postali di tutta Italia. Concerto simbolo in grotta, in occasione della festa della musica nella riserva naturale Grotte di Luppa. Anche il Comune di Santa Maria ha aderito alla manifestazione internazionale che in Italia è promossa dal MIBAT e dalla rappresentanza italiana della Commissione Europea. Tante sono le iniziative organizzate in tutto il territorio nazionale per promuovere verso un pubblico sempre più ampio la diffusione della musica di qualità e promuoverla in ogni contesto sociale. Ben 564 città hanno aderito all'iniziativa che vede coinvolti 5.638 artisti in piazze, strade e location suggestive. L'amministrazione comunale di Santa Maria ha voluto aderire quindi ancora una volta alla festa della musica con un certo simbolo che si terrà all'interno come detto della riserva naturale Grotte di Luppa. Esibirsi l'orchestra Colibri Assemble che proporrà brani della tradizione classica. L'appuntamento quindi è per lunedì alle ore 16.30 nella cornice naturale della riserva. Invece sarà la giovane orchestra d'Abruzzo diretta dal maestro Pasquale Veleno protagonista dell'inaugurazione della rassegna Vaga Luna organizzata dalla camerata musicale sul Monese. L'appuntamento è nella giornata della festa della musica che torna al teatro comunale Caniglia sempre nel rispetto delle norme anti-covid ed è fissato appunto per lunedì 21 giugno alle ore 18.30. La giovane orchestra d'Abruzzo proporrà un omaggio a Beethoven. Ed ora una notizia di cronaca del capoluogo di regione personale della squadra mobile della questura di L'Aquila nel corso di programmati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno predisposto un servizio di osservazione subito dopo il casello dell'Aquila Ovest provenendo a fermare vari autovicoli uno tra i quali condotto da un aquilano di 35 anni il quale all'instante ha mostrato comportamenti non ordinari al controllo degli operatori di polizia. Quest'ultimi, indispettiti dall'atteggiamento del giovane hanno eseguito una verifica sull'autovettura nel vano portaoggetti dove è stato trovato un astuccio contenente 20 grammi di cocaina. La perquisizione successivamente proseguì da presso il domicilio del 35enne dove è stata rivenuta una pianta essiccata di marijuana lampade alogene, termometro e altra strumentazione idonea per la coltivazione della pianta stupefacente. Lo spacciatore pertanto è stato tratto in arresto condotto a domiciliare in attesa dell'udienza di convalida e dell'eventuale giudizio direttissimo. Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere organizza il 29 giugno prossimo un Open Day coinvolgendo le ginecologie e le oncologie ginecologiche degli ospedali del network Bollini Rosa. In tutto il territorio nazionale, negli ospedali aderenti al progetto verranno offerti servizi gratuiti, clinico-diagnostici e informativi come visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze ed infopoint. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che consentono di migliorare la qualità della vita delle pazienti, non a che facilitare l'accesso alla diagnosi precoce nell'ambito dei principali tumori ginecologici a carico di utero e ovaie. In Italia, secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, soltanto nel 2020 erano attiese 10.000 nuove diagnosi di tumori all'utero, 5.000 all'ovaio. Più dell'80% delle pazienti con tumore ovarico a una recidiva della malattia e la qualità dell'intervento chirurgico, con la corretta terapia di mantenimento, sono fondamentali per offrire alle pazienti più qualità, vita e tempo, senza sintomi della patologia. Sul sito bollinirosa.it sono comunque disponibili l'elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione. E continuano invece le iniziative messe in campo dal WWF per la tutela dell'orso Bruno Marsicano, ma per vincere la sfida e consentire a questa sottospecie unica al mondo di continuare ad esistere, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Per questo l'associazione cerca volontari disponibili a offrire un po' del proprio tempo per realizzare azioni pratiche in favore di un animale prezioso, simbolo dell'Abruzzo. A maggio 2019 il WWF ha lanciato la campagna Orso 2x50 per contribuire a raggiungere l'ambizioso obiettivo di raddoppiare il numero di individui nell'areale della specie entro il 2050. I volontari del WWF si sono prontamente attivati, ad esempio per intervenire nelle aree frequentate nei mesi scorsi da Marena ed S4 Cuccioli, che come noto hanno visitato anche qualche piccolo allevamento. Alcuni dei proprietari hanno contattato la direttrice dell'OASI WWF, riserva regionale Goli del Sagittario, Sefora Inzaghi, che coordina per l'Associazione di Interventi sul Territorio per avere il supporto e dotazione di sistemi di protezione per i loro animali. Ad oggi, a seguito di sopralluoghi effettuati dal personale dell'OASI, sono state installate quattro porte in ferro a protezione di pollai, tre a Gioia di Marsi e una a Goriano Sicoli. Con i fondi della campagna WWF e grazie alla manodopera dei volontari, quest'anno sono già stati inoltre installati cinque recinti elettrificati, mentre altri otto saranno montati nei prossimi giorni nei comuni di Prezza, Goriano Sicoli, Pescina, Collarmele, Celano e Cocullo. Gli interventi all'interno del Parco regionale Sirentevelino sono stati effettuati in collaborazione con l'area protetta. E la città dell'Aquila sarà presente a Contract Cities, la Biennale delle città del mondo, in programma a favore dal prossimo 25 giugno e fino al mese di ottobre. Le modalità di partecipazione alla prestigiosa iniziativa tra le maggiori e più accreditate nel campo artistico e culturale è stata illustrata in comune nel corso di una conferenza stampa del sindaco Pierluigi Biondi. La nostra città sarà ospite di Chiara Biondi con un proprio padiglione all'interno del cortile della seconda edizione della Rassegna, che si trarà nell'ambito del suggestivo contesto del Farm Cultural Park, considerato come uno dei centri culturali indipendenti più influenti del mondo contemporaneo e uno dei progetti più effervescenti di ripensamento e rinascita di realtà urbane. E l'Aquila racconterà la sua esperienza di rinascita accanto a realtà a quali San Paolo, Hong Kong, Napoli, Bruxelles, Buenos Aires, tanto per citarne alcune. 6 milioni di euro per finanziare interventi volti alla prevenzione dei danni alle foreste abruzzesi derivanti da incendi di sesto idrogeologico e da attacchi parassitari con contributo in conto capitale al 100% che possono arrivare fino a 300 mila euro. Sono aperti i termini per imprese ed enti per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi relativi alla misura 8.3.1 del programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando investimenti nello sviluppo delle aree forestali, nel miglioramento della redditività delle foreste ha una dotazione di 3 milioni di euro ed è rivolto all'interno territorio regionale. Adesso seguirà un secondo avviso pubblico che verrà data apposita diffusione riservato ai soli territori interessati dal sisma del 2016-2017 del centro Italia e dalle nevicate del gennaio 2017. Con questa iniziativa, spiega proprio il vicepresidente della Giunta regionale con delega all'agricoltura, parchi e foreste Emanuele Imprudente, si rafforza la strategia di tutela del nostro prezioso patrimonio forestale e in generale del territorio. Per quanto riguarda poi l'avviso destinato a finanziare gli interventi relativi all'intero territorio regionale, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha approvato nei giorni scorsi la predisposizione delle funzionalità del portale Sian necessarie per la presentazione delle domande di sostegno in forma dematerializzata e sarà dunque possibile per gli aspiranti beneficiari della misura inoltrari richiesta a partire dal mese corrente con termine ultimo fissato al 15 settembre ovvero entro i 90 giorni. Sostenuti infine interventi volti alla riduzione del rischio di danni provocati da infestazioni causate da nematode del pino, dal cinipide del castagno e dalla processionaria del pino. E oggi le famiglie che hanno congiunti con patologie oncologiche potranno presentare domanda per ottenere contributi economici per far fronte alle spese per le cure lo annuncia l'assessore regionale e le politiche sociali Pietro Quaresimale dopo che gli uffici regionali hanno provveduto a pubblicare l'avviso pubblico interveniamo per fornire un aiuto concreto e diretto alle famiglie ha detto l'assessore Quaresimale che sostengono ingenti spese rilevanti sacrifici per aiutare i propri congiunti nel difficile percorso legato ad una malattia oncologica i contributi riguardano anche famiglie che al proprio interno hanno soggetti sottoposti a tre pianto per ogni singola domanda il contributo previsto è di un massimo di 2.000 euro che aumenta 3.000 in caso di rimborso paziente familiare gli aiuti sono destinati a coloro i quali sono sottoposti a terapie o prestazioni cliniche presso strutture sanitarie regionali anche accreditate o presso strutture sanitarie di altre regioni che risultano sempre accreditate negli ultimi 5 anni la sensibilità degli italiani per l'ambiente si è tradotta in un balzo in avanti nella raccolta differenziata del vetro superiore a quello che si era registrato nei 12 anni precedenti un balzo in avanti che interessa anche l'Abruzzo anche nell'anno della pandemia con un balzo in avanti del 2,6% nella media italiana le oltre 570.000 tonnellate di rifiuti e di imballaggi in vetro in più sottratte alle discariche e riciclate in nuove bottiglie e vasetti dal 2016 ad oggi grazie alla raccolta differenziata e all'impegno dei cittadini hanno determinato un incremento dei benefici economici per i comuni italiani che solo negli ultimi 5 anni è pari a circa 160 milioni di euro una cifra che tiene conto dei maggiori corrispettivi riconosciuti dal consorzio Coreva per la raccolta differenziata del vetro alle amministrazioni locali e ai gestori del servizio qui si aggiungono risparmi per i mancati onere di smaltimento in discarica legati alla crescita dei volumi non solo il risultato sul medio periodo non sarebbe stato possibile se il sistema non avesse retto nell'anno della pandemia come conferma ufficialmente il rapporto annuale sulla raccolta e il riciclo del vetro in Italia il piano specifico di prevenzione è curato dal consorzio Coreva in piena pandemia gli italiani hanno incrementato quindi l'utilizzo di basetti e bottiglie di vetro compensando in ambito domestico il caldo registrato in hotel, bar e ristoranti la coetività come sappiamo è stata sospesa per una buona parte dal 2020 per misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 e questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui noi prima di saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra bacia da Facebook Antena 2 Avezzano grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci